Bella raga, qua è Savix che vi parla, bentornati in questo nuovo video e benvenuti per chi è nuovo nel canale Oggi ragazzi, OTR nuovissima, requisiti per chi deve andare in OTR, non ce n'è ragazzi, ma servirà semplicemente requisiti a chi ci aiuta Possiedere il Knight con all'interno il Terrorbyte Quindi andiamo fuori dal Knight del nostro amico e una volta che il nostro amico è all'interno del Knight dovrà entrare dentro il suo Terrorbyte Una volta che è dentro il suo Terrorbyte dovrà invitarci all'interno ragazzi tramite il menu interazione A questo punto accettiamo l'invito per entrare all'interno del suo Terrorbyte Ragazzi, con questa OTR potete fare anche lo scambio della base operativa Funziona molto bene su Old Gen, su Next Gen è un po' difettata, però funzionicchia anche lì Quindi a questo punto, una volta che il nostro amico ci ha invitato, prendiamo l'invito e andiamo all'interno del suo Terrorbyte dentro il suo Knight A questo punto gli diciamo al nostro amico di mettersi sulla porta per uscire dal Terrorbyte Una volta che il nostro amico è in quella posizione ragazzi, noi dovremo andare a avviare una di queste attività E' fondamentale che il nostro amico stia lì dalla porta e stia sullo Switch tutti fuori ragazzi Quindi quando il nostro amico è là, siamo sicuri che sullo Switch è tutti fuori, andiamo ad avviare una di queste attività sulla mappa E quando siamo in questa schermata, cioè appena parte il caricamento del cielo, gli diciamo di spammare su tutti fuori ragazzi al nostro amico In questa maniera, una volta che siamo nella lobby, nell'attività, la quittiamo e quando spawneremo in lobby E sbada bam regà, saremo in OTR e con questo OTR potete anche scambiare alla base Vi lascio il link in descrizione per il video dello scambio base operativa Ragazzi potete anche morire e rimarrete lo stesso in OTR Spero che questo video vi sia stato d'aiuto Lasciate un like che è sempre ben accetto E alla prossima Sbada bam Sbada bam